Grazie a tutti. 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 Nano. Guarda cosa faccio. Oh faccia da pirna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Manca Andre. Oh porco i rotticoglioni. Andre. Vai che c'è Fabio. Battene finché sei in tempo. Salvatiti. 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 Guarda come diventa. Per diventare come me ci vuole un sacco di anni. Ma nell'immediato futuro guarda cosa ti aspetta. Il mio. con i rotticoglioni. No. Ma già. Il figlio è già più abituato. L'altro giorno è arrivato un negro, io ho detto ciao, lui mi è salutato, allora mi ha tirato una sberra. Non è male, se non erano abituati, quella dove si è spaccata la miglia, quella no, è facile, è facile, è facile, cosa fai la dh, guarda che questa qua la fai, tranquilla, l'ho già fatta una volta, non è che mi piaceva tanto. A me, ma è di meno esperto. Oh ma la variante della vasca da bagno, io la voglio fare, cazzo, ma io non l'avevo mai vista, mi ha detto Maurizio che c'è anche l'anno troppo. Vabbè, chissà che l'origno è l'andrea, non l'avevo mai vista, allora l'ho fatta magari a settembre, no, no, io l'ultima volta che sono venuto qua era agosto e l'ho fatta. E io no, l'ho fatta dopo perché io sono venuto presto, poi non sono più venuto, poi non sono più venuto, poi non sono più venuto, voglio vedere dopo me. Ti ripasso anche tu allora. Fata un dom, domani, 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 non sono più venuto.